Alle nostre spalle a pochi passi c'è Piazza Duomo. Qui siamo nella via Costa Masciarelli che conduce poi al luogo dove si è consumata la violenza e danni di questa povera e sfortunata ragazza. Davvero pochi passi dal centro e questo è stato sostanzialmente il percorso dal centro storico dove c'è il locale, dove c'è lo sportello Bancomat dove la ragazza si sarebbe recata per prelevare del contante prima di arrivare in questa zona, in questa zona che è abbastanza isolata perché è una zona che ha dei cantieri ancora con pochi residenti però tante telecamere in quest'area della città come del resto in tutto il centro che stanno aiutando gli inquirenti, gli investigatori in queste ore a far luce su tutto l'accaduto che comunque ha destato moltissima preoccupazione sconcerto in città. Le telecamere di videosorveglianza, tante in quella zona, saranno di certo decisive per l'individuazione dell'uomo che ha aggredito un ex rugbysta aquilana di 30 anni nella notte tra martedì e mercoledì in centro. Ad è stato sconcerta e preoccupazione la brutale aggressione ad una ragazza che ha riportato feriti al volto gravi e dovrà essere operata. La squadra mobile con il dottor Danilo Di Laura sta indagando, la PM Roberta Davoglio ha aperto un fascicolo. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che la ragazza sia entrata a mangiare in un locale di kebab, poi la sosta al Bancomat e l'aggressione da parte di un uomo che era nel locale, ma su tutto lo svolgimento della vicenda che si sarebbe concluso a Costa Masciarelli ovviamente c'è il massimo riservo e si sta cercando di ricostruire bene tutto l'accaduto e i passaggi di una storia che comunque non troverebbe nessuna giustificazione comunque in nessun caso. Si stanno vagliando in queste ore tutte le immagini del percorso che avrebbe fatto la ragazza dal locale per il corso al Bancomat che si trova poco distante sino ad arrivare a Costa Masciarelli appunto. Al rifiuto della ragazza di un approccio sessuale sarebbero arrivate le botte, calci e pugni al volto ma la tenacia della ragazza ha impedito lo stupro, è riuscita a prendere il telefono a chiamare i genitori che hanno avvisato la polizia nel mentre l'uomo si era data alla fuga. La giovane sarebbe stata derubata del portafoglio così ha raccontato agli investigatori. Le indagini della squadra mobile vanno avanti con ritmo serrato alcuni particolari, l'uomo avrebbe dei tatuaggi e le immagini dei video sono elementi già in mano agli investigatori che sono sulle tracce di questa persona ma il volto nelle telecamere non è visibile bene perché occultato da un cappello, un fatto che ha allarmato subito le persone, l'Aquila non è più una città tranquilla scrivono in molti. L'ultimo episodio di questo genere era avvenuto a San Bernardino, la gente invoca più controlli, le forze dell'ordine fanno quello che possono in un territorio in cui comunque il tessuto sociale è cambiato molto dal post-sisma.